allora 22 questa è la penultima missione gente siamo in chiesa dopo aver venite io lo amo, mi ritero, lo amo no, vale, te sopago un troppo again I must face a Sparda, strange fate, isn't it? strange and ironic that it will end the same way irony has favored you this time, look there trish don't even think about it she dies you Dante fool So sad that humans will always be humans No more Has the spot of blood been spoiled over the ages Now die Dante Trish Trish No Useless scum Failure is one thing But taking an odd behavior like that What is the matter? It is time to end your pitiful life Now How much longer are you going to keep zapping? Come out and show yourself, Mundus Come out and show yourself ok sono tornata i love on that Tom those eyes deep in them I see the same light as in Sparda's eyes why my mother that useless being if you need a mother I can create it as many as you want just like I created Trish silence oh 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 non mi sono io, grazie cazzottina avete passato i giochi di Scrauge? è uguale per tutti oh my god cazzo di ridi? no no aspetta no appunto va bene guardate l'attacco speciale vado è morto però ma si è stato rimasto yahoo uuuu uuuu aia maale non cazzo sti satt sti satt sti satt caraca cosa stavo vivendo? arrivo arrivo ah ok cazzo 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 ma cazzo cazzo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi ricordo cosa devo fare. Ah sì, l'ultima... Sì, no, lo ricordo quando te riesci e dici pegami i poteri, sto dicendo ma per cosa? Ma già che dopo ritorno col figlio. Non puoi fare un cazzo. Non puoi fare un cazzo. Questo era la mia madre. Ora lo darò a te. Mi padre è anche qui ora. Rest in pace. Oh la madonna, che tosse. Bene, quanto avevo preso? Ah! Che bello! Mi mancava là! Bene, bene. Faccio una missione successiva, che è l'ultima. Così almeno abbia finito. Ecco. Grazie a tutti.